I media per il nuovo umanesimo, sfide e percorsi tra locale e globale. È il titolo della tavola rotonda in programma giovedì prossima a Macerata, l'Auditorium San Paolo, organizzata dalla Diocese in occasione del 25esimo anniversario della testata diocesana Emmaus, il 35esimo di Radio Nuova Macerata in blu. In un mondo in progressiva e pervasiva globalizzazione, ribadito Benedetto XVI, gli organi di informazione possono diventare fattori di umanizzazione, e questa è una delle sfide su cui l'evento intende offrire spunti di riflessione. Le sfide sono molteplici e a diversi livelli, innanzitutto siamo contenti che queste due realtà del nostro territorio, Radio Nuova Macerata in blu e Emmaus, siano cresciute in questi anni, quindi una grande soddisfazione, però non ci illudiamo, sappiamo che ci sono difficoltà dal punto di vista della sostenibilità di questi mezzi, molte radio negli ultimi anni hanno chiuso e anche molte sestate oggi sono in grande difficoltà, quindi c'è un problema di sostenibilità anche dal punto di vista economico. Dall'altra parte c'è una sfida legata ai contenuti, oggi viviamo in un mondo in cui il fluire della comunicazione è costante, e quindi la sfida è quella di proporre una comunicazione che sia davvero di qualità, che sia una comunicazione che aiuti a riflettere, che sia una comunicazione in grado di intercettare l'uomo nelle sue domande fondamentali, nei suoi bisogni. Di qui la tavola rotonda che abbiamo scelto, titolata proprio in media per il nuovo umanesimo, cioè c'è un umanesimo da salvaguardare e soprattutto da costruire, da sviluppare. Abbiamo chiesto a voci autorevoli come la preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, la Pogliaghi, il direttore di Avvenire, Tarquinio, una delle figure più significative della radiofonia italiana, il dottor Valsania, di interagire proprio su questo tema. Quindi siamo così contenti di poter celebrare questo anniversario, siamo anche consapevoli delle sfide che ci attendono e sicuramente ci attrezzeremo sempre meglio per affrontarle.